ciao ragazzi bentornati in questo mio suo video oggi volevo fare un qualcosa mi è arrivato un pacco si è arrivato un pacco che ho ordinato io da un mese fa però è arrivato un po anche in anticipo che dovete arrivare alle 22 il 22 di settembre e forse o il 22 di settembre o ottobre quindi mi è arrivato anche in anticipo che oggi è il 13 quindi è arrivato in anticipo vi chiedo subito 5 mi piace per questo video perché ci metterà un po a editarlo perché devo fare quelle modificazioni anche perché sono a scuola io e voglio farlo forse uscire oggi sì non vi devo fare vedere le cose giro la videocamera dall'altra parte così vedete cosa sto spacchettando ok questo qua il pacchetto l'ho girato da questa parte perché di qua sono i dati allora dobbiamo spacchettare quindi un attimo faccio così si dovrebbe vedere me ok perfetto allora si dovrebbe vedere qua vediamo è da tempo che lo sto aspettando perché questo sono un disastro aspettate che vedo cosa sto registrando aspettate si porto due è caduto aspettate un attimo e ci sono quindi perfetto scusate però vedete sfocato quindi lo teniamo così allora non so come spacchettare questa cosa qua allora lo giriamo per di qua si dovrebbe vedere aspettate si dovrebbe vedere aspetta un attimo si è da tempo che sto sfruttando o mio dio vedete qua all'interno ci sono è piccola però oh mio dio mai ho avuto questa cosa spacchetta 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 ve lo devo fare pure vedere allora è piccolo sapevo già che era piccolo si modella si perfetto questo qua come si svita si toglie da qua e ho comprato quello la per appoggiarlo dal dal telefono perché dopo non posso registrare quindi faccio due sono emozionata sì perché è da tempo che sto aspettando questo pacco allora questa cosa come si avvita forse da qua aspetta se avvita per così quindi si allarga quindi togliamo not avete visto un po togliamo la cover ci vediamo dopo ok montato quindi se devo posizionare da qualche parte guarda spero che non mi cade per questo allora proviamo un attimo metterlo tipo qua voglio non ci sta qua ah no cade 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 allora qua aspettate un attimo si è smontato aspettate si è smontato aspettate che non è tutta la porta qua perfetto guardate aspettate guardate qua eh l'ho messo qua aspettate che lo mettiamo così è più sicuro dovrebbe andare così e dopo fare così incasterlo bene e fare così perfetto così se voglio fare questi vlog così però è arrivato la cosa non è vero però almeno funziona perfetto ciao ragazzi bentornati in questo unissimo video oggi siamo su un vlog e stiamo andando a scuola non è vero? wow cover stupida vaffancina dovrebbe andare così che dovrebbe tenere il coso forse l'aggiusto aspettate perché sono un po' scema si si è aggiustato perfetto quindi si fanno così i vlog è perfetto perché posso metterlo dappertutto, nei pali quando sto facendo i vlog fuori o al parco o queste cose così no, non mi dire che no forse cade il telefono però questa cosa è fighissima oh mio dio nella sedia ho messo questa cosa così quindi posso farlo speciale aspettate un botto di speciali allora, concludiamo questo video o questo unboxing per questo unboxing o vlog è tutto lasciate 3, 5 mi piace prossimo unboxing commentate ashtapfato o ashtapfato prossimo video commentate condividete questo video con tutti i miei amici e sui miei canali c'è il mio canale che sei tu e ciao studiante ciao ciao Grazie a tutti